Ok, eccoci qua. Ciao ragazzi, oggi non vi faccio una live, non vi faccio una live come vi ho già detto sul gruppo Telegram perché sono stanco. Stamattina ho fatto un esame ed è proprio da questo incipit. Voglio proprio partire da questo incipit per parlarvi di ciò di cui avrei voluto parlarvi oggi, come avrete già visto dal titolo, ma una cosa alla volta. Partiamo per l'appunto dall'esame. Stamattina ho dato un esame di degrado e conservazione dei materiali cinematografici, un esame prevalentemente di chimica, ma che per l'appunto va a spiegare come si formano le pellicole, come si forma lo strato emulsionante, come si forma un supporto per pellicola, come si è evoluto nel tempo la pellicola, che materiali sono stati utilizzati, eccetera, eccetera. Interessante, per carità di Dio, ho praticamente un esame di chimica per un corso d'AMS, il che ha creato non poche difficoltà nel mio studio. Io fortunatamente avevo già un'infarinatura abbastanza in realtà ricca di chimica, sono solo io che ho dimenticato quasi tutto quanto, ma va bene così. Poi sono passato da, aneddoti a caso, sono passato da Mondi Sommersi, mi sono finalmente preso gli Ultimate di X-Men, penso che comincerò a leggere lì stasera, anche se ho una pila di volumi di Superman che devo ancora finire di leggere, ma che non sto mai trovando l'energia per farlo. Trovo energie soltanto per leggere Spillati, ultimamente. Tra l'altro ho preso anche il 9 di Ultimate di Spider-Man, ma non ho l'8, quindi devo aspettare un attimino di recuperarlo. Vabbè, cazzate a parte. In realtà avevo già da molto tempo in mente di parlare di questa tematica che molto spesso mi è stata chiesta in live, molto spesso è stata dibattuta da tante persone che mi seguono e che mi hanno seguito sia in live o comunque in ambienti esterni, su gruppo Telegram, su Discord. Eccetera. Probabilmente andrò a fare, a dire una serie di cazzate una dietro l'altra, quindi mi raccomando, blastatemi per bene nei commenti perché già vi ci vedo, è un argomento un po' particolare, trattato in maniera altrettanto particolare. Quindi cerchiamo di venirci incontro, ok? Parlando io con la massima soggettività e voi mi massacrerete. Vabbè, questo è un altro discorso. Comunque, volevo parlarvi di quello che è il mio rapporto con il cinema. E voi direte, Manuel, fai il Dams, parli spesso di cinema, c'hai una rubrica dedicata su Twitch, il Cinetechina, il venerdì. E che rapporto avrai con il cinema? Avrai un rapporto positivo? Sostanzialmente sì. Però mi verrebbe da dire che più di un rapporto positivo col cinema, io ho un rapporto positivo con la narrazione. A me piace raccontare le cose e a me piace quando mi raccontano le cose in un certo modo e lo fanno bene. Ed è il motivo per cui mi piace tanto il fumetto, è il motivo per cui mi ha appassionato anche studiare teatro, è il motivo per cui ho anche fatto teatro io stesso, è il motivo per cui mi sto dedicando a dei progetti che comunque sono audiovisivi o perlomeno visivi, ok? Mi appassiona molto la narrazione, la narrativa, seppur non mi prenda tanto la prosa, è più forte di me, è un mio limite e a cui prima o poi dovrò porre il rimedio. O forse no, dipende da come mi andrà alla fine, non sono certamente obbligato. Qual è il problema però? Per l'appunto io non ho tanto un amore per il cinema ma quanto per la narrazione, soprattutto se visiva. Quindi ovviamente ho una predisposizione per il cinema, come per il fumetto, come per l'animazione di cui io vado pazzo e che è il mio vero grande amore. Seppur non è che ne sia così tanto aspetto, però esperto, oggi non domino una parola. Perdonatemi, sono stanco per l'esame che vabbè. È andato bene tra l'altro, speriamo, è un esono in realtà, vabbè non c'è niente. Dicevo. Perché ho scelto questo titolo per il video? Perché io con il cinema ho un rapporto molto contrastante, nel senso che ne ho bisogno per rincalanare quello che ho dentro in un mezzo espressivo che ritengo più opportuno. Perché l'espressività per immagine la trovo meravigliosa. L'idea di poter trasmettere un messaggio, un'idea, un pensiero, un modo di essere tramite una conseguenza di immagini, che quindi possono essere animazione, può essere cinema tradizionale, può essere fumetto, che sia. Non sto ovviamente separando animazione da cinema, fate attenzione a detto cinema tradizionale per intendere quello live action. Il problema è che il termine live action invece tendenzialmente, ultimamente è adattato per le trasposizioni animate con attori reali. Però vabbè, è un altro discorso. Per me è un mezzo espressivo, così come lo è il fumetto. Ma... Come posso farvi capire come lo sento? È un qualcosa di cui non ho bisogno fino a quando non trovo le energie per consumarlo. Mi spiego ancora meglio. Io guardo pochissimi film, ok? E voi direte, ma come? Fai Dams? Lo so. Perché lo vivo male. Io non riesco mentalmente a vivermi l'idea di approcciarmi a un film, a un autore, a qualcosa, se lo devo fare. Ossia, Manuel guardati i film di Kubrick, ti servono, sono meravigliosi, eh? Regà, non lo farò nemmone mai. Non ci riesco. Se qualcuno mi viene a dire, Manuel ti devi recuperare questa cosa perché è importante, oppure se anche io stesso mi vengo a dire, Manuel guarda che questa cosa la devi vedere perché ti serve, per un tuo percorso creativo, per ampliare il tuo bagaglio culturale, per formarti in maniera più adeguata. Non ce la faccio. Il mio cervello si blocca completamente, sarà perché sicuramente avrò anche delle dinamiche autosabotatorie, non credo si dica così, e o comunque sicuramente sarà inficiato anche per quella che è la mia presunta DHD, che se Dio vuole me la farò diagnosticare a breve, se ce l'ho davvero, magari non ce l'ho. Però comunque in generale sento di avere dei problemi o dei deficit dell'attenzione, poco mi assicuro. Quindi l'idea di dovermi approcciare a un qualcosa comunque di lungo che magari non mi prende al 100% sicuramente non mi viene facile, però è un discorso collaterale. Quello di cui volevo parlare era altro, volevo parlare del fatto che nonostante io non riesca a amare, cioè no amare, ad approcciarmi serenamente a quel tipo di media, ne ho un bisogno viscerale. E ci penso costantemente ogni giorno, mi ci informo, ascolto, leggo al riguardo, ho bisogno di parlarne, ho bisogno di disquisirne, è il motivo per cui ho fatto Twitch anche per questi motivi. Perché avevo bisogno di esprimermi su alcuni prodotti per cui magari non avevo grande occasione nella mia quotidianità di parlarne, ok? Quindi è stata una valvola di sfogo non indifferente, soprattutto nel campo dell'animazione, soprattutto per alcune cose specifiche dell'animazione che io apprezzo ma che molti non apprezzano. E nonostante però io non riesca molto spesso a trovare le energie per consumare un tipo di prodotto, un determinato film o qualcosa, quando ci riesco, quando il mio cervello fa ok, vai, hai il via libera, e guardo qualcosa e quel qualcosa mi colpisce, Lo fa in una maniera così viscerale, così forte, che sento diventare tutt'uno con quello che sto guardando. E quest'altro mi è successo più volte, mi è successo con Wild Robot, mi è successo con Look Back, con Look Back in particolar modo. Mi è successo diverse volte, ma mi succede spesso ogni qualvolta io mi approcci ad un prodotto che mi piace, e che in qualche modo sento che diventi parte di me. Quel film, in quel momento sono stato io e conseguentemente io divento quel film. L'emozione che mi ha dato guardare Spider-Man Across the Spider-Verse per la prima volta in sala, non me l'ha data nient'altro. Così come anche, sullo stesso piano, tanti altri film che ho amato e che ho apprezzato, ma l'esempio che mi viene più immediato è questo. Perché vi giuro che l'ho vissuto proprio con un amore ed una... Seppur io prima d'allora non ero fan di Spider-Man, sono diventato fan di Spider-Man dopo aver visto quei film là. Non so spiegarvi, è una sorta di amore tossico. Ne ho bisogno viscerale, ho bisogno di averci a che fare, ma non riesco a farlo serenamente. Ed è una cosa che credo che per me valga per qualsiasi cosa, in realtà, ed è una cosa che mi fa star male. Non mentirò, non è una cosa che vivo serenamente, cioè ovviamente non la vivo serenamente, però è una cosa che proprio mi dispiace. Il non riuscire a dire, oh, sai che faccio? Stasera mi guardo un film, guardiamo qualcosa di bello, guardiamoci 2001 di Stena allo Spazio. Non ci riesco. Ma non perché ho 2001 di Stena allo Spazio, potrebbe tranquillamente anche essere un film di Dragon Ball, ok? Ma se il mio cervello non dice, tu stasera hai la libertà di fare questa cosa, senza pensarci più di tanto. Poi magari, mentre lo guardo, lo analizzo pure nel dettaglio, faccio molto caso alle inquadrature, faccio caso alla regia, faccio caso a tutte queste puttanate. Ma se me lo prefisso, ancora peggio, se so che devo guardare quel qualcosa perché mi serve per un qualcosa di esterno, non ce la faccio. Che poi è proprio il rischio di dover sovrapporre una passione a... No ad un lavoro, perché per me non è un lavoro e probabilmente non lo sarà mai. Però ad un qualcosa di associato a un impegno di esterno, come nel mio caso l'università. Perché in qualche modo sento anche una forte pressione, anche nel dovermi far piacere cose... Che magari sono tecnicamente buone e belle, ma che a me proprio non scendono giù. Tipo, i 400 colpi di Truffaut, film meraviglioso a livello tecnico come narrazione. Raga, a me quella roba non piace, a me personalmente quella roba lì non piace. Il film, tecnicamente, perché comunque lo studio queste cose, non è che sono idiota. Vagamente, c'è un pochetto di cose le so perché le sto studiando. È un filmone, ovviamente un filmone, è un film di Cristo, è un capolavoro. Ma non fa per me, cioè non è quello che io ricerco all'interno di una narrazione. All'interno della narrativa io vado a cercare personalmente altre cose. Poi il parere oggettivo rimane quello. Così come anche, vabbè, per Arcane il discorso è un po' diverso perché secondo me ci sono delle problematiche effettive nella scrittura in quella serie. Però è diverso il discorso perché quello già si tratta di un prodotto che perlomeno tecnicamente è ineccepibile. Quindi vabbè, e lì però è un discorso più complicato come lo è anche per Flow che secondo me è stato molto sopravvalutato, ne abbiamo parlato anche in live. Ma vabbè, tralasciando queste cose. Vorrei tanto poter vivere tutto quello che riguarda la mia passione con serenità ma non ci riesco. E mi dispiace. Mi dispiace tanto, mi dispiace soprattutto quando poi mi fa... Cioè è diventata quasi una forma di mortificazione. Cioè io mi mortifico anche a un certo punto perché dico merda, io sto facendo un percorso che a conti fatti si concentra su queste materie ma te, di classici che hai visto. Ogni volta che qualcuno mi dice ma hai mai visto... Cazzo ne so, Corvi di Hitchcock, io li faccio un no. Non l'ho visto Corvi di Hitchcock. E ogni volta, ma come, fai da... Eh, regà, non l'ho visto, non ci riesco. A meno che non c'è un contesto che mi obbliga oppure riesco a prenderlo bene perché poi a una certa mi sono messo a recuperare una marea di film di Troisi che comunque... O di Totò o che cazzo ne so di robe diciamo un po' più... No, dico altologate però di queste robe qua. Quando mi viene la scintilla lo faccio lo faccio anche più che volentieri mi ci diverto, imparo e... Ma diversamente non ce la faccio. E un po' mi fa stare male come cosa perché mi sento sempre come se mi mancassi un pezzo mi sento sempre come se avessi una visione generale dell'insieme ma mai nulla nello specifico. Così lo è... È così per l'animazione è così per la cinematografia è così per il fumetto. Sento sempre di raschiare la superficie. Magari quella superficie riesco... Un dito va anche un po' più in profondità e qualcosa la colgo ed effettivamente la so anche esporre. Però ho sempre la sensazione di rimanere qui su. E non mi sento effettivamente parte di nulla ed è una cosa che un po' mi... mi dispiace. Ed è una cosa di cui ho parlato spesso anche con Sara che per chi non la conoscesse è la mia migliore amica e moderatrice del mio canale Twitch. Quindi per chi mi segue su Twitch la conoscerà sicuramente. Che mi ha tranquillizzato spesso su questa cosa mi ha detto che comunque ho ancora tutto... effettivamente ho 20 anni ho ancora tutto il tempo del mondo per andarmi a recuperare i grandi classici per farmi venire la voglia di recuperarli. Di farmi venire la voglia di recuperarmi tutto Truffaut tutto Pasolini tutto Fellini mi verrà prima o poi ma sicuramente mi verrà perché comunque mi interessano mi appassiono. Semplicemente forse non è ancora giunto quel momento ho sto cazzo di capello che mi sta dando un fastidio indescrivibile. Vediamo se riesco... mentre cerco di arricciare questo capello e... oh ma sai che ha funzionato? Tra l'altro Sara mi ha paragonato spesso per l'approccio che ho a queste cose al cinema al... al guardare i film all'effettivo a Tim Burton perché mi ha raccontato non mi sono mai informato nello specifico e se dico delle cazzate perché mi ricordo male io e non perché me le ha male esposte Sara mi sembra giusto specificarlo che appunto il suo approccio al cinema e al mondo del cinema era in questo modo qua ed è il motivo per cui poi lui inizialmente soprattutto nei primi passi della sua carriera si dedicò per lo più a creare immaginario comunque a dirigere i film piuttosto che a scriverli e almeno mi pare appunto metto le mani in alto ed è una cosa che un po' mi ha rincuorato un po' mi ha fatto incazzare perché a me Tim Burton sta sul cazzo sempre opinione personale mia non mi piace l'estetica di Tim Burton ma è scusate ma è un mio parere ok è meravigliosa oggettivamente ok parere mio l'estetica di Tim Burton mi sta sui coglioni non la sopporto non mi piace il fandom che ci sta dietro è più forte di me quindi un po' mi ha rincuorato ovviamente non non mi sto mettendo sullo stesso livello di Tim Burton che è un grande creativo uno dei più grandi che ci siano stati sulla scena però mi ha fatto sentire meno solo ecco diciamo così io ho tante idee in testa tante cose qualche progetto a qualche progetto sto persino lavorando e nulla semplicemente spero che prima o poi possa trovare le energie necessarie per fare ciò che ritengo giusto voler fare e mi dispiace ancora non averle scusatemi non sto piangendo vi sto soffocando Dio buono ok spero di riuscire a trovare la forza la voglia le energie di fare quello che ritengo giusto fare senza soffrirne senza starci male senza viverle come un impegno necessariamente e e non lo so non lo so davvero e spero che le cose funzionino che quello che non sta funzionando prima o poi possa funzionare che di riuscire ad avere soddisfazione ecco questa è la cosa che mi preoccupa di più perché io fino a un certo punto della mia vita perché ero piccolo perché ero molto preso da quello che volevo fare ero convinto che qualcosa qualcosa l'avrei fatta non magari qualcosa di importante però qualcosa qualcosa l'avrei fatta e ho paura che questa sensazione che già si è ridotta nel tempo svanisca e non voglio farla svanire ed è il motivo per cui già mi sto impegnando in mille cose diverse sto cercando di arrivare a un risultato mi dispiace che ultimamente sto toccando poco la fotografia e dovrei riprenderla perché credo che quella sia veramente la mia strada la fotografia intesa anche come fotografia cinematografica e sento che la mia strada possa essere in quel mondo lì in qualche modo sicuramente poi lo scoprirò col tempo che cosa voglio dire in sostanza voglio dire che voglio anche cercare un po' di autoconsolarmi dicendo che le cose arrivano per le cose ci vuole tempo nella vita e so che siamo abituati perdonatemi qualunquismi però so che siamo abituati a una società molto frenetica che non ci dà tempo le sapete già queste cose lo so però mi servono per contestualizzare il discorso e che sembra che tutto debba essere fatto nell'immediato altrimenti sia un fallito però realisticamente siamo persone lo sappiamo tutti spero che siamo tutti quanti persone che tutti quanti in quanto persone abbiamo bisogno dei nostri tempi per elaborare determinate dinamiche del nostro cervello e che se non ora poi le cose arriveranno se lo si vuole ovviamente perché comunque lo si deve volere ma se lo si vuole e ci si impegna se non oggi domani le cose arrivano mi permetto di citare perdonatemi la normalata ma mi permetto di citare Bojack Horseman dicendo che ogni giorno è sempre più difficile ma se lo fai ogni giorno diventa sempre un po' meno difficile impegnatevi se vi va di farlo non sono nessuno per dirvi che vi dovete impegnare nelle vostre cose o per quello che ritenete giusto che siano cose piccole o grandi prendetevi il vostro tempo apprezzatevi anche quando non state facendo un cazzo dite questo è un tempo che mi serve per prepararmi perché anche quello serve anche il tempo per decomprimere serve anche l'anno passato senza fare un cazzo serve a qualcosa perché in quell'anno comunque tu entri in contatto con degli stimoli con delle cose che magari potrebbero far fuoriuscire qualcosa nel tempo io non toccavo penna da un anno invece da un paio di mesi a questa parte sto facendo mille cose contemporaneamente serve la gestazione serve la sofferenza serve l'aspettare serve il prendersi del tempo se lo si sente necessario serve tutto ragazzi serve tutto tranne quello che vi fa veramente del male fate ciò che ritenete giusto fare nel limite della vostra salute sia mentale che fisica non sono né un dottore né niente prendete i miei consigli come delle puttanate che state sentendo da un tizio online a caso che sta parlando del fatto che non riesce a guardare i film la sera quindi fate conto voi fate ciò che ritenete giusto ed impegnatevi se lo ritenete necessario per raggiungere i vostri obiettivi divertitevi siate sereni come voglio cercare di essere come voglio cercare di esserlo anch'io sereno e ci arriverò e spero che di arrivarci presto detto questo ragazzi io vi saluto e ringrazio per avermi ascoltato vediamo se ci vediamo domani live e niente ragazzi buona fortuna per tutto grazie a tutti